Dopo ben dieci anni, nuovo look per la Corte Malatestiana di Fano. Questa mattina l'assessore alla cultura Stefano Marchegiani ha fatto un sopralluogo assieme al funzionario dell'ufficio Lide Ceretti per visionare il proseguimento dei lavori di manutenzione ordinaria. Gli operai già attivi dalla settimana scorsa hanno rimosso il palco e la platea dal cortile del Palazzo Malatestiano, un'operazione di pulizia e di smontaggio delle strutture che ha costata 16.000 euro ma ora sarà il bilancio comunale 2015 a stabilire se ci saranno i fondi sufficienti per poter affittare una nuova struttura da utilizzare solo nel periodo estivo, lasciando così libera la Corte il resto dell'anno. Era un'opera necessaria non solo per la manutenzione ordinaria ma anche per problemi di sicurezza, la verifica dell'assetto di una struttura che era stata lì da tanto tempo e questo ci ha consentito anche di rimodellare il piano originario perché molta ghiaia non c'era più quindi andava risarcito tutto il piano d'imposta, il materiale è stato stivato nei magazzini comunali per una verifica di riutilizzo, adesso stiamo vagliando l'opportunità o di prendere una nuova struttura a noleggio, dipende sempre dai preventivi, oppure di fare un collaudo nuovo su quello che era il vecchio materiale reintegrato dei pezzi che vanno necessariamente sostituiti. Stiamo verificando questa situazione in modo che la prossima stagione sia nuovo palco a noleggio che sarà dimensionato anche per l'esigenza delle scuole di danza che qui fanno il saggio, l'anno scorso è un po' troppo basso, sia la platea sia al meglio delle prestazioni che uno spazio come questo deve ottenere. Inoltre, come ha detto l'assessore, sarà necessario trovare un'adeguata uscita di sicurezza per un utilizzo ottimale di questo spazio a cielo aperto. Vederlo ripulito ci fa capire che il rilancio del Palazzo Malatestiano, della Pinacoteca Civica e del Museo archeologico passa anche attraverso una riqualificazione di questo spazio.